La parte che ho scelto e che ho deciso di regalare è l'Ultima cena di Leonardo da Vinci. Ho scelto quest'opera più che altro per il momento che rappresenta, cioè quando Gesù nella Bibbia annuncia ai suoi apostoli che uno di loro lo tradirà durante la Pasqua ebraica. Quest'opera, infatti, come ho detto prima, si basa su un passo della Bibbia, precisamente su un passo del Vangelo di Giovanni. Quindi, tutti quanti gli apostoli, dopo che Gesù disse loro che uno di loro lo avrebbe tradito, iniziano a guardarsi così per capire di chi mai stesse parlando, un po' sbalorditi. E in quest'opera si può distinguere che gli apostoli sono divisi in quattro gruppi da tre, con al centro Gesù. A partire da destra ci sono Simone, Giuda Taddeo e Matteo, i quali, attraverso i gesti delle mani e le espressioni facciali, esprimono tutta la loro incredulità in ciò che Gesù disse. Successivamente, più vicino a Gesù, ci sono Filippo, Giacomo Maggiore e Tommaso, che appunto si accalcano vicino a Gesù, esigendo delle spiegazioni e sbalorditi ed a braccia aperte. Successivamente, ovviamente, al centro c'è il Gesù a braccia aperte. Successivamente, poi ci sono Giovanni, che è praticamente rappresentato quasi in maniera femmina. Infatti, solitamente, Leonardo, per rappresentare i giovani maschi, gli adolescenti, tendeva sempre a rappresentarli in maniera più femminile, con lineamenti più morbidi. Poi ci sono Pietro e Giuda, cioè Giuda il traditore, il figlio di Simone. Nella Bibbia, infatti, ci fu Simone a chiedere a Gesù, dopo ciò che disse, chi l'avrebbe potuto tradire. E Gesù gli rispose che il traditore sarebbe stato, come scritto nella Bibbia, colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. Successivamente, infatti, Gesù intinse un boccone e lo diede a Giuda. Mentre invece, alla fine della tavolata, ci sono Bartolomeo, Giacomo Minore e Andrea. Poi, inoltre, dopo una piccola ricerca su internet che ho fatto, ho scoperto che Leonardo da Vinci, per rendere, diciamo, più realistico il distanziamento dello sfondo allo spettatore, la differenza tra i piani anche, praticamente dipingeva lo sfondo, anche il secondo piano, in una tonalità più azzurrina. Tutto ciò era possibile perché aveva scoperto che aumentando la quantità di ciano nelle pitture che utilizzava, e quindi rendendole più azzurre, sembrava molto più lontane e più realistiche. Inoltre, qualcosa sull'opera. Quest'opera fu commissionata da Leonardo il Moro, il quale voleva che Leonardo dipingesse la parete del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, che venne costruita come sede di celebrazione della messa per gli Sforza, dedicata agli Sforza.